La Fiera con la Jugoslavia, il canestro di Picchio da tre punti, il canestro di Jack su uno scarico, tutte le situazioni che alla fine che sembravano degli orologi erano fatti perché facevamo sempre quel movimento a memoria, perché le sappiamo leggere bene, capire, reagire ai cambi della difesa, reagire agli spostamenti, a trovare il pallone in modo giusto, a usare il tempo giusto di uscita. Avevi la traccia e poi potevi scegliere cosa fare e il fatto poi che il tiro importante l'abbia fatto anche Picchio, che un tiro importante l'abbia fatto anche Jack, che magari in quel momento Picchio era devastante con uscire dalla panchina perché manteneva la qualità altissima. elementare a Parigi-Bersi, 58 pari in ultimi 5 minuti, Abbio prende, tira, da tre, Sandro, Picchio, Abbio!